Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale Allora, devo dire che non sono stata brava per niente perché ho fatto la spesa all'Eurospin fuori dal menu settimanale e vi spiego subito Allora, il mio, vabbè, come sapete è un menu bisettimanale quindi io in genere faccio un volantino sì e uno lo salto solo che in questo volantino in vigore adesso voi questo video lo vedrete sicuramente un po' più avanti quindi ecco, non vi specifico qual è e poi cercherò di mettermi alla pari con questi video spesa Comunque, allora, il succo è stato che praticamente io dovevo andare all'Eurospin solo ed esclusivamente per prendere la Coca-Cola che noi prendiamo sempre, appunto io la prendo a casse che era in offerta a 45 centesimi e i sughi pronti, quelli ricotte e noci e peperoni e noci perché li prendiamo sempre quindi ho detto, ma sì, vado all'Eurospin e li prendo anche se non dovevo fare la spesa perché appunto l'avevo già fatta quindi io con la settimana ero a posto con le due settimane però mi sono trovata quindi ad andare e ho preso le mie due belle casse di Coca-Cola poi sono passata dal banco frigo e ho detto, ho visto che c'erano questi qui che io li avevo visti in realtà nel volantino però siccome uno lo devo saltare ho detto, vabbè, non li prendo ma siccome oggi sono andata, ho detto, ok, li prendo quindi ho preso due di questi da banco frigo poi, come surgelati, ho preso questo ve lo faccio vedere vuoto perché li ho già messi in freezer erano in offerta e ho detto, ma sì tanto sono piccolini togliendoli da qua li riesco un po' a mettere dappertutto in freezer e quindi a 1,99 euro ho preso questi 12 biscottini alla vaniglia che piacciono molto a Mario piacciono anche a me dico, vabbè, ma a me piace tutto la sorvoliamo comunque, e quindi ho deciso di prenderli anche questi erano un fuori lista quindi in più che non serviva quindi della frutta e verdura sono passata veloce perché avevo preso già tutto l'altra volta però i miei occhi si sono soffermati a questo mi hanno ispirato non tanto per lo sconto 50% ma proprio per la forma del pomodoro, il colore mi sembravano belli dolci ho visto che sono di Catania quindi origine Sicilia sono di questa tipologia qui pomodoro di paghino origine appunto Italia frutta di natura queste cose qua ho detto, vabbè, prendiamolo come contorno per stasera perché ho preso i cordon ble che non vi faccio vedere perché sono già in forno quindi ho preso una confezione di cordon ble per Mario e appunto fare il contorno questi pomodori con l'insalata poi vi faccio vedere vi faccio vedere le cose in lista e poi tutto il fuori lista ok, allora queste erano le cose che c'erano in lista quindi c'erano questi pesti appunto che noi prendiamo sempre ci piacciono molto ed erano a 79 centesimi e ne ho presi quattro due ricotte e noci e due peperoni e noci poi mi sono accorta che mi mancava l'olio e quindi ho detto meno male che devo andare all'Eurospin perché mi era terminato quello lì per cucinare perché come sapete io a crudo utilizzo quello fatto qui da noi da noi cioè qui nel paese e quindi ho preso una di queste e poi c'era la maionese che ho visto pure in offerta noi ne consumiamo Mario ne consuma a Valang e quindi ho detto ma sì prendiamola quindi avrei dovuto prendere la Coca Cola e queste cose che vedete qua quindi i burger di verdure non erano compresi i pomodori non erano compresi i cordon bleu non erano compresi e adesso vi faccio vedere altre cose che non erano comprese allora passi dello scaffale e dei risotti e questo Mario l'ha mangiato ieri gli è piaciuto e che fai non lo prendi un altro e quindi abbiamo preso il risotto ai gamberetti anche perché poi ve ne parlerò sicuramente in un altro video devo rivedere il mio menù bisettimanale perché adesso saltiamo alcuni pranzi cioè li salto io li farà solo Mario comunque poi vi racconterò tutto in un altro video quindi gli ho preso un altro risotto e poi ho voluto prendere anche questi non li ho mai presi sono gli spaghetti alla pescatora sinceramente mi fanno un po' senso gli spaghetti da toccare così tipo essiccati però ho detto ma sì proviamoli e li proverà poi cercavo nel volantino scorso c'era il riso ed era appunto era in offerta non l'avevo trovato e quindi c'era in offerta questo per le insalate di riso e ho deciso di prenderlo poi ho deciso di prendere i panini per gli hamburger visto che ancora abbiamo altri hamburger appunto Mario si fa le sue cene e quindi ho preso questi e poi avevo visto che ogni volta ci sono passata velocemente dallo stand ogni volta dimentico di prendere la cannella in polvere quindi anche da mettere sulle mele nei dolci comunque l'ho presa e poi visto che non l'ho voluto prendere anche il curry da mettere soprattutto nel pollo perché voglio fare il pollo al curry poi allora poi mi sono accorta che stavo terminando il muesli e ho visto che nel volantino prossimo non ci saranno ancora in offerta quindi ho detto ho visto che mi trovo qui comunque sia li prendo e ho ripreso di nuovo questa è la frutta che a parte pezzetti di mela per il resto mi sono piaciuti tantissimo c'è i mirtilli l'uva passa il cocco la banana niente bontà e ho ripreso anche questi al cioccolato e poi queste me le ho fatte scappare l'altra volta perché ci sono volte in cui sono brava che proprio prendo solo le cose in lista e sinceramente tornata a casa mi sono un po' pentita ho detto vabbè cavolo un piccolo fuori lista lo potevo fare e erano quelle lì proprio che mettono nelle ceste in edizione limitata e oggi le ho ritrovate in offerta 1 euro e 99 e quindi ho deciso di prenderle una è questa con farina integrale di farro zucchero di canna cacao e albicocche e una è questa con farina integrale di farro zucchero di canna limone e zenzero mi ispiravano tantissimo e quindi le dovevo prendere per forza infine per quanto riguarda il non beauty ah ho dimenticato queste allora ho preso questi fantasmini per mario sono 5 appunto fantasmini taglia 40-45 cotone della stanna e sono 2 neri 2 blu e 1 grigio quindi li proviamo e vediamo la marca è questa jackberg vedremo come sono poi ho preso due di questi profumatori erano a 99 centesimi ce n'erano tantissimi ma nella premura vabbè ho preso questi qua questi che si appendono questi sono d'armadio c'erano anche quelli per cassetti ma sicuramente li prenderò li riprenderò ed è 1 marsiglia e fiori d'arancio e 1 pesca e fiori di limone questo penso lo metterò nell'armadio di mario che fra i due ho sentito che è meno buono questo che è più buono me lo prendo io grazie poi ho preso le salviettine e lo bevi queste per pulire ve l'ho detto magari quando thomas ho butellate per pulire ecco qualcosina così magari anche le superfici giusto per e poi ho voluto prendere a mario questo questo deodorante roll on ne hanno parlato tutti benissimo e quindi ho deciso di farglielo prendere di prenderglielo ai sali d'alluminio quindi per me non va bene io non lo prenderò e poi ho visto questo che l'avevo visto anche l'altra volta ma anche qui non l'ho preso e quindi ho detto ma si prendiamolo non appara bene è un prodotto ipoallergenico ed è della linea baby dermomed sono 300 ml vi devo fare assolutamente vedere e quanto è carino il pack allora è veramente veramente carino proprio così boh delicato mi piacciono molto questi colori allora la linea appunto è questa qui c'è scritto che non contiene tutte queste cose che leggete mi piace il fatto del sale aggiunto perché questa è una cosa che io non noto mai i coloranti e poi qui abbiamo invece tutta la linea al completo ma lì c'era disponibile solo questo qui shampoo perché avrei voluto provare anche gli altri vi faccio vedere l'inci così potete stoppare io non me ne intendo al solito manderò alla mia amica fiore una foto e lei mi dirà più o meno com'è e quindi niente ragazzi questa è stata tutta la mia spesa da Eurospin vi faccio questa piccola panoramica era un fuori lista un fuori spesa quindi questa non c'entrava sono stata veramente monella adesso vado a risistemare il mio menù bisettimanale mi sa che eventualmente lo farò settimanale e quindi in modo tale da non saltare neanche un volantino ah volevo chiedervi un'altra cosa secondo voi si risparmia di più facendo la spesa giornaliera o comunque quando c'è bisogno settimanale bisettimanale 10 giorni 20 giorni mensile comunque fatemi sapere perché secondo me organizzando la spesa comunque si risparmia però appunto non ci devono essere questi volantini accattivanti altrimenti c'è da spendere ciao a tutte ragazze ah no come ciao a tutte non ho detto la mia solita frase io vi ringrazio per aver ricordato il video vi mando un basso grandissimo e noi come sempre se vi va ci vediamo al prossimo video ciao